Buongiorno a tutti, oggi vi faccio vedere come si fa il pan di spagna, utile per la base di tutte le torte. Mi occorre 5 uova intere e un tuorlo, 100 g di farina, 100 g di amido di frumento, 180 g di zucchero e vaniglia. Inizio la preparazione, nelle uova metto lo zucchero e monto. Inizio la preparazione, nelle uova metto. Quando le uova sono montate in questo modo, aggiungo le farine. Prima di inserire le farine, le setaccio, le mischio, e inserisco poco alla volta, lavorando dal basso verso l'alto. Inizio la preparazione, nelle uova metto. Inizio la preparazione, nelle uova metto. Ora metto l'estratto di vaniglia. Una volta pronto, lo vado a mettere in una teglia di 24 cm di diametro, imburrata prima. Metto in forno caldo e statico a 170 per 20 minuti. Eccolo pronto, utile per tanti dolci. Spero vi sia piaciuto il video. Grazie della visione. Alla prossima. Iscrivetevi al canale, condividete e mettete mi piace. Grazie. Grazie.